Salve a tutti! Continuiamo oggi lo studio sui dissipatori per componenti elettronici con la parte di costruzione del modello matematico. Se vi ricordate nel precedente video ci siamo lasciati dopo aver riempito queste tabelle, ovvero questa relativa al primo dissipatore e questa relativa al secondo dissipatore. Dopo aver condotto un esperimento la prima cosa che si fa è un'analisi critica dei risultati raccolti ed esaminando questi risultati si nota che c'è qualcosa che non va. Infatti osservando l'ultima riga della tabella abbiamo che con questo dissipatore riusciamo a dissipare 13,8 W a una temperatura del MOSFET di 153 gradi, mentre con quest'altro dissipatore riusciamo a dissipare 29,51 W quando la temperatura del MOSFET arriva a 147 gradi. Il valore che però mi sarei aspettato di leggere qui, essendo che la superficie del secondo dissipatore è tre volte superiore al primo è una potenza a questa temperatura di circa 40 W. Infatti essendo che sia la formula dell'irraggiamento che quella della convezione sono proporzionali alla superficie di scambio, se noi aumentiamo di tre volte questa superficie otteniamo che la potenza che possiamo dissipare è tre volte superiore. Quindi mi sarei aspettato di trovare questo valore moltiplicato per 3 che fa circa 40 W. E come mai allora questa cosa non si verifica? Perché lì non c'è scritto 40 W? Perché sicuramente con questo dissipatore non abbiamo rispettato una delle assunzioni teoriche che avevamo fatto, ovvero quella che la temperatura dovesse essere uniforme su tutta la superficie di scambio del dissipatore. Quindi sicuramente le dimensioni di questo dissipatore sono eccessive per garantire questa condizione e quindi si verificherà che in prossimità del MOSFET ci sia una zona molto più calda rispetto alle estremità del dissipatore e questo fa sì che la sua potenza massima che riesce a dissipare cala notevolmente. Perché noi ovviamente ci dobbiamo fermare quando il componente raggiunge 150 gradi, non quando il dissipatore raggiunge 150 gradi. Quindi non essendo rispettata questa assunzione teorica i dati raccolti dal secondo dissipatore non potranno essere utilizzati per la costruzione del nostro modello. Ma non verranno sprecati, non sarà tempo perso quello che abbiamo fatto, ma bensì questi dati verranno riutilizzati in seguito e lo si capirà meglio nel proseguimento del video. Quindi per la costruzione del modello utilizzeremo solo i dati raccolti con il primo dissipatore. Quindi com'è che andremo ad utilizzare i dati raccolti? Se vi ricordate nel video in cui veniva mostrata una tecnica per la misurazione pratica dell'emissività, avevamo che questo sistema di equazioni non poteva essere risolto. In quanto erano presenti tre incognite e soltanto due equazioni, quindi risultava essere indeterminato. Però noi sfruttando questo metodo siamo riusciti a misurare l'emissività del primo dissipatore che è pari a 0.95. Quindi noi adesso sappiamo la parte di calore che viene dissipata per il raggiamento e sappiamo anche la quantità di calore totale che viene dissipata, perché noi l'abbiamo misurata, l'abbiamo misurata in questa colonna. Quindi per ogni equazione, quindi per ogni temperatura, abbiamo che l'unica ingognita che ci resta è il valore del coefficiente di scambio termico convettivo a quella determinata temperatura. Quindi quello che dobbiamo semplicemente fare è andare a risolvere ciascuna di queste equazioni per ogni temperatura e quello che otterremo sarà il valore del coefficiente h per ciascuna temperatura. Ed una volta calcolati tutti questi valori basterà metterli in un grafico come questo. Quindi analizzando quello che abbiamo ottenuto osserviamo che quando delta t è uguale a 0, quindi quando la differenza di temperatura fra il dissipatore e l'ambiente è pari a 0, la convezione, quindi il coefficiente di scambio termico convettivo h è pari a 0. banalmente quindi se non c'è differenza di temperatura non c'è scambio di calore. Man mano che questa temperatura aumenta il coefficiente di scambio termico convettivo ha una forte impennata, quindi le prime fasi del grafico sono quelle a velocità maggiore. Man mano che però la temperatura, la differenza di temperatura aumenta, notiamo un appiattimento della crescita del valore h. Quindi nella seconda parte del grafico vediamo che cresce in modo molto molto lento. Successivamente su questa serie di punti sono andato ad utilizzare lo strumento conosciuto come linea di tendenza della tipologia esponenziale e ho ottenuto che è ben rappresentato da questa equazione qui, ovvero 6,57 che moltiplica x elevato a 0,109, dove x in pratica sarebbe il valore delta t. Quindi con questo risultato noi adesso abbiamo una equazione analitica che riesce a prevedere il valore del coefficiente di scambio termico convettivo H in funzione della differenza di temperatura che è presente sul dissipatore. E con la conoscenza di questa equazione noi abbiamo teoricamente completato il nostro modello. Perché siamo in grado di prevedere, nota la geometria e il materiale del dissipatore e nota la perdita dell'attivo, siamo in grado di prevedere, la temperatura massima che si raggiungerà su ogni specifico dissipatore. Quindi quello che dobbiamo fare è andare ad implementare questa equazione del valore di H in un software agli elementi finiti, in modo che quando lui svolge le varie iterazioni, le varie operazioni, sa per ogni elementino in cui andrà a dividere il dissipatore, quanto vale il valore di H, che sarà ovviamente funzione della temperatura istantanea di ogni elementino. Io ho già effettuato questa operazione e adesso vi faccio vedere i risultati. Questa qui è la simulazione relativa al primo dissipatore. Quindi sono andato ad applicare qui su questa faccia, ho ritagliato un contorno che simulava la faccia del MOS attaccata al dissipatore e sono andato a dire al software che questa faccia immetteva una quantità di calore pari a 13,8 Watt. Successivamente sono andato ad implementare quella equazione del coefficiente H e sono andato ad implementare tutti i valori relativi allo scambio termico per il raggiamento, ovvero emissività pari a 0.95 e fattore di vista pari ad 1 e questo è il risultato che è uscito fuori. Osserviamo che la parte più calda del dissipatore è quella che sta sotto il MOS e presenta una temperatura di 163 gradi, mentre la parte più fredda è ovviamente quella allo spigolo opposto è presente una temperatura di 151 gradi. Io durante i test termici prendevo la temperatura su questo punto che infatti notiamo essere di colore verdino e che corrisponde a una temperatura di 157 gradi. Perfettamente in linea con il valore misurato è ovviamente affetto da qualche piccolo errore di misurazione o di simulazione ma è un errore tollerabile. Inoltre come si può vedere sul dissipatore è presente una massima differenza di temperatura di 12 gradi ovvero da 163 a 151 quindi la assunzione teorica che abbiamo fatto di temperatura uniforme è quasi rispettata. Non perfettamente rispettata però ci siamo avvicinati molto a questa condizione. Arrivati a questo punto il modello risulta concluso e adesso se vi ricordate c'è l'ultima operazione da fare ovvero quella della fase di verifica. Verificare che il modello che abbiamo ottenuto risulti essere giusto, essere coerente, con la realtà fisica. Quindi quello che dovremmo fare adesso è andare ad effettuare un test su un altro dissipatore per verificare l'esattezza dei risultati ottenuti anche con quest'altro. Ma noi un test su un altro dissipatore lo abbiamo già fatto ovvero l'abbiamo fatto sul secondo dissipatore e che non è rientrato nella realizzazione di questo modello. Quindi essendo che abbiamo già i dati perché li abbiamo precedentemente raccolti. Quindi quello che ci basterà fare sarà andare a simulare agli elementi finiti il secondo dissipatore utilizzando il modello che abbiamo ottenuto col primo e vedere se i risultati che otteniamo con il software sono uguali ai risultati che abbiamo già ottenuto tramite le misurazioni. Quindi ho riportato sul software il secondo dissipatore e ho simulato l'ultima riga della tabella ovvero il caso in cui dissipava 29,51 watt. Ed ecco il risultato. Osserviamo che qui sotto la faccia del moss abbiamo una temperatura di 153 gradi mentre agli spigoli più lontani abbiamo una temperatura di 115 gradi. E nel punto dove ho misurato la temperatura ovvero come nel caso precedente leggermente sopra il foro abbiamo un colore giallino che corrisponde a una misura di circa 147-143 gradi perfettamente in linea con la misurazione che avevo effettuato. Da questa simulazione possiamo notare due cose importanti. Uno che questo dissipatore non era assolutamente adatto per poter fare i nostri test in quanto era assolutamente fuori assunzione teorica di temperatura uniforme. Infatti possiamo notare che il range varia da 153 gradi a 115 gradi quindi assolutamente non è accettabile. Seconda cosa è che adesso riusciamo a capire il motivo per cui non riesce a dissipare 40 watt. In pratica gran parte della sua superficie si trova a una temperatura molto bassa rispetto al centro del mosfet quindi possiamo dire che non è pienamente sfruttato. Infatti la potenza massima che può dissipare un dissipatore dipende da quando il punto di contatto con il mosfetro raggiunge una temperatura di 150 gradi perché nel momento in cui la raggiunge bisogna fermarsi altrimenti il dispositivo si rompe. Quindi la progettazione di un buon dissipatore risiede nella scelta della sua geometria e nella scelta del materiale di cui è composto. Quindi magari questo dissipatore se avesse avuto uno spessore leggermente maggiore sarebbe stato capace di dissipare una maggiore potenza o magari rientra anche nella progettazione della geometria la posizione del mosfet. Infatti se il mosfet fosse stato più centrale quindi posizionato qui avrebbe avuto di sicuro una posizione migliore per diffondere il calore in modo più uniforme nel dissipatore. Quindi come possiamo vedere il modello funziona perfettamente in quanto in questa fase di convalida è riuscito correttamente a prevedere quelle che erano già state le misurazioni effettuate sul secondo dissipatore. I risultati di questo studio ci torneranno davvero molto utili in tutti i futuri progetti in quando qualora sia necessario progettare o prevedere un dissipatore in un determinato dispositivo sarò in grado di progettarlo abbastanza fedelmente sul software agli elementi finiti e quindi capire in fase di progettazione quale deve essere la sua forma, la sua geometria, il suo ingombro e questo è un ottimo vantaggio. Molto bene quindi con questa parte si conclude lo studio sui dissipatori. Un saluto e alla prossima!